L'ex conventino di Foggia diventa una residenza universitaria. Dopo oltre 5 anni della sua chiusura, la struttura di via Barra per lunghi anni è stato il faro per gli indigenti della città e oggi potrebbe avere una nuova vita. Nella regione Puglia infatti arriva un importante finanziamento per la realizzazione di nuove residenze universitarie attraverso la riconversione o riqualificazione di strutture inutilizzate con il bando ministeriale della legge 338-2000. Al bando l'Università di Foggia ha proposto appunto la struttura dell'ex conventino per realizzare 64 posti letto. Lo ricordiamo, la struttura era gestita dall'Università di Foggia attraverso una convenzione stipulata nel 2020 tra l'ASP, Istituto della Dolorata, proprietaria del complesso, e l'Ateneo Foggiano che prendeva in comodato d'uso l'ex conventino per il recupero funzionale dell'ex monastero dei Frati Domenicani, detto appunto Conventino. Una convenzione stipulata tra l'allora rettore Pierpaolo Limone che aveva manifestato l'esigenza di poter avere spazi più doni al diritto allo studio dove poter realizzare appunto residenze universitarie oltre agli altri servizi indispensabili. Il progetto proposto dall'Università degli Studi di Foggia dunque prevede la realizzazione di 64 nuovi posti letto che insieme ad altri posti letto da realizzare in strutture sparse sul territorio pugliese beneficeranno di 50 milioni che la Regione Puglia stanzia per potenziare il diritto allo studio per tutti quei ragazzi che scelgono di studiare e vivere nelle loro città. Un progetto Puglia Regione Universitaria che nasce per rispondere alla domanda di residenzialità degli studenti. Edifici storici, spesso abbandonati o ridotti a ruderi, ritorneranno a una nuova vita aprendo le loro porte alla comunità studentesca pugliese, infatti a beneficiare. Degli interventi sarà tutta la cittadinanza grazie alla creazione di spazi soglia come corti, porticati, spazi di co-working, servizi di ristorazione, auditorium o palestre, spazi progettati all'insegna del recupero del patrimonio storico-artistico degli immobili ma anche innovativi e attenti al tema della sostenibilità ambientale, un innalzamento della qualità reso possibile dallo strumento dei concorsi di progettazione.